Assai probabile che Zaman torni a Pescara per la firma del contratto un anno con rinnovo automatico in caso di promozione all'inizio della prossima settimana. Il Boemo è a Palermo dove ieri si è sposato il figlio Karel. Curiosità, nei giorni scorsi il Vicenza ha provato a convincere il tecnico di Praga, senza successo. Intanto il DS Daniele Delicarri ha il lavoro per avviare la ricostruzione. Tante facce nuove, giocatori adatti al verbo del Boemo rispetto allo scorso anno. Il centrocampo avrà più centimetri, più fisicità. La società vuole patrimonializzare il più possibile. Al massimo arriveranno a 3-4 prestiti, così come ha serito durante la trasmissione solo calcio di lunedì scorso dallo stesso DS Biancazzurro. In attacco il ritorno di Merola dipenderà solo dal calciatore che aveva già manifestato la volontà di restare alla corte di Zeman. Pescara ed Empoli avrebbero già trovato un punto di intesa. L'operazione sarà fatta a titolo definitivo. Formula del prestito secco invece per il promettente difensore centrale Mancino Lorenzo Lucchesi, classe 2003, arriverà dalla Fiorentina. In stand-by tutte le altre trattative. Vi abbiamo già parlato con dovizie di particolari di Alessandro Gabrielloni, pupillo di Delicarri. 29 anni il prossimo 10 luglio, giocatore bandiera del Como, 176 presenze e 55 gol, contratto appena rinnovato a scadenza 30 giugno 2027. Al momento il club lariano non intende muoverlo, ma siamo davvero solo agli inizi. Infine l'ex allenatore biancazzurro Alberto Colombo riparte da Potenza, accordo raggiunto. Il tecnico Lombardo firmerà un biennale.